Com'ero vestita, di Mary Simmerling. Le cose stavano così. Sopra indossavo una maglietta a girocollo bianca di cotone a maniche corte, infilata dentro una gonna di jeans, anche questa di cotone, che arrivava appena sopra il ginocchio e aveva una cintura in vita. Sotto un reggiseno bianco di cotone e delle mutandine bianche. Ricordo persino che non erano neppure coordinate. Ai piedi scarpe da tennis bianche, proprio il tipo con cui si gioca tennis e infine orecchini d'argento. Avevo messo il lucida labbra. Questo era quello che indossavo quel giorno, quella notte, il 4 luglio 1987. Magari vi starete chiedendo perché ciò sia importante o come faccia io a ricordare ogni singolo dettaglio. Cercate di capire. Mi hanno fatto questa domanda un sacco di volte. Mi hanno costretto a ricordare un sacco di volte questa domanda, questa risposta, questi dettagli. Ma dalla mia risposta a questa domanda, tanto attesa, tanto anticipata, sembra dipendere tutto. Non contano gli altri dettagli di quella notte durante la quale a un certo punto sono stata violentata. Mi chiedo quale risposta e quali dettagli darebbero soddisfazione o potrebbero dare soddisfazione a coloro che mi chiedono e che cercano conforto dove, ahimè, nessun conforto si può trovare. Se solo fosse così semplice, se solo noi potessimo farla finita con i stupri semplicemente cambiando i vestiti. C'è dell'altro. Ricordo anche cosa indossava lui quella notte, sebbene nessuno me lo abbia mai chiesto.